dino tebaldi da ferrara al paglio per non restare in braghe di tela si correva per vincere un paglio cioè una pezza di stoffa lunga più o meno una dozzina di braccia quanto poteva bastare per confezionare una zippa vale a dire una giubba o un giubbone più importante era la corsa nel programma del giorno di festa più prezioso era il colore rosso per gli uomini verde per le donne bianco per gli asini però a ricevere il premio nell'ultimo dei casi citati non era mai il sudato quadrupede bensì il suo cavaliere i nobili che correvano su focosi destrieri volevano di più almeno un paglio de brocca d'oro frudato de varotta cioè un panno di broccato d'oro foderato di pellice di vaio e forse qualcos'altro ancora o sopra o sotto banco erano loro a comandare e questo poteva bastare a chi non fosse stato d'accordo nell'ingaggio o nel premio a pagare invece erano le corporazioni vale a dire i sindacati di oggi nonché le ville parrocchie extraurbane e le castella i centri maggiori che godevano di difesa armata le contrade di allora non centravano per niente non avendo figura legale si parlava di contrade quando l'agente fiscale andava a riscuotere le tasse il termine contrada nei tempi antichi era odiato da tutti e nessuno al suo indirizzo avrebbe rivolto esclamazioni di giubilo come si fa in occasione di una sfilata per capire a pieno gli affanni di chi un tempo correva per una pezza di panno bisogna ricordare che il medioevo era poverissimo e la rinascenza non era splendente per tutti ai più conveniva correre il paglio anche se con poche speranze i panni buoni nei secoli d'oro per il paglio dedicato a san giorgio venivano da firenze o da venezia un bene che costava tantissimo il mercato di ferrara al massimo poteva esibire lane berrettine cioè grigie senza colore tolte a pecore pascolanti in diamantina oppure nella san martina roba da poveretti che pochi potevano comprare facchini operaia giornata e bracenti contadini legati ad un fondo di solito si contentavano di portare gli abiti smessi dai padroni gli altri vestivano di tela o canapa lavorata in casa senza tintura per aglindarsi un po meglio valeva la pena di tentare la con la conquista d'un paglio se non si fosse arrivati primi in assoluto un qualche premio di consolazione non era da rifiutare un panno soltanto diremmo noi oggi e allora però ce n'era abbastanza per impegnarsi fino allo spasimo soprattutto da parte di chi aveva qualche ambizione il pubblico che non poteva scendere in gara si medesimava nel concorrente e faceva il tifo si contentava di poco e comunque finisse lui restava in braghe di tela grazie a tutti